Stadio Angelino Nobile, buon pomeriggio, buon pomeriggio dal vostro Stefano Loteri, ben mister Raffaele, esordisce col suo 3-4-3, possiamo dire così, visto che è stato il modulo. Risponde, la USA è anche qui, è un ritorno, se vogliamo, alle origini per la scuola Padalino, che è nelle viste Capitane Mastalli, torna in mezzo al campo. Partiti, primo pallone gestito dalle Vespe. Tanti cambiamenti, dicevamo, d'una parte e dall'altra, pensate, ben 19. Super stabile, voleva un cagnaccio Raffaele, un cagnaccio ha trovato. Rizzo, il tentativo di testa, a parte di Cernicoi, sembrava... ...e solo Silvestri, la battuta è verso di lui, arriva Silvestri, la conclusione è contatto, la parte di Cernicoi, e poi la scuola, arriva! E Solucci! Raffaele, due passi, l'idea di Solucci che non esulta. Sione è rotta, distrutta il parziale, stagia 1, due stradio a zero. Raffaele, due passi, l'idea di Solucci, e due esulta. Senti, per la Juve Stabia... ...perché c'è Mastalli, la sua conclusione è proprio Martínez, poi arriva! Tommaso Silvestri, Martínez non proprio perfetto, si è ingannato dalla direttoria del... ... ... Palla al centro verso Cernicoi, poi Romero, Martínez, rimane a direttore da due passi! ... 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 Abbiamo la decisione dell'arbitro, parla che non è entrata, parla che non è entrata un materiale per le rights, vuole recitare un ruolo importante, non si è parlato di obiettivi di primato, non l'ha fatto né la dirigenza del Catania né del resto della dirigenza della Vestambia, vengono da... ...quando attaccano la difesa a tre si tende ad allargare, ma gli avversari per adesso... ...eche ecco, Puglione Fantacci che avanza... ...però non vogliamo dire... ...anche lui potrebbe andare ad impostare, attenzione intanto perché ha un po' di spazio, Fantacci, centralmente c'è Cernigoli, Fantacci aspetta, poi punta, Clayton ancora... Puglione Fantacci, il cross, era caduto a terra Romero, che adesso la rimette Martinez, con il guantone, a togliere... ...la traiettoria uscire... ...del numero 7, il cross, nuovo a terra... ...tutto fermo... ...è incornato alla grande Romero, quella che si era... ...saccata... ...all'esame fisco da parte di Marini... ...ci sono andiamo errati... ...è rimasto a terra... ...effettivamente poi... ...Zanchi... ...con l'esterno, elegantemente, sempre verso Welbeck... ...la intelligente... ...Reginaldo... ...sul fondo... ...esterno... ...di classe pura, Reginaldo... ...tutto investicato... ...e lì nel squadro, lì nel Catania... ...e Hitzko... ...che ha lottato... ...dienti invitati... ...perreggiato... ...lo so... ...le più Ancani... ...peppolino... ...le più Ancani... ...le più Ancani... ...le più Ancani... ...le più Ancani... ...sempre Pecorino al topo... ...la parola di Tomei... ...palla che rimane lì, Pecorino... ...che non riesce! ...messi a Mila il Bertini... All'intervento scacca Barozzi per entrare all'intervento di rigore, ancora scacca Barozzi fino in fondo, il cross, palla sul secondo palo Martínez, intervento miracoloso di Martínez, era stato bastardo di servire, il compagno di squadra, allora attenzione a Rosaia. Grazie.